Sono Antonietta, ho 31 anni. Il mio nome è Luis e questa è mi segna. È la casa cinematografica Retina Poti Pictures, divisione cinematografica della cooperativa sociale Il Cenacolo e prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo a realizzare 5 video per la campagna I Am Church, nei quali persone con disabilità provenienti da diverse parti del mondo raccontano la propria esperienza di fede e affermano Io sono Chiesa. Gesù è un po' il mio amico, incontro giornaliero, Gesù è il mio papà. Una campagna lanciata dal di Castello per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede. La casa cinematografica Retina era già nota per i tanti progetti che avevano visto coinvolti attori con disabilità ed erano stati premiati per la loro originalità. Uno su tutti, il corto Wanted, che aveva ricevuto tanti premi allo Screen Power Film Festival di Londra. Adesso questo incarico prestigioso dal Vaticano che ha lo scopo di far emergere il contributo che le persone con disabilità quotidianamente offrono alla comunità ecclesiale. A partire dal 6 dicembre i video saranno disponibili sui canali YouTube di Vatican News e del di Castello per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede. Per me è tutto. I am church. I am church. I am church. I am church. I thank you so you do.